Musica Ciao a tutti ragazzi di Risottosei e bentornati su Simboria 2 Simboria, Simboria si, Simboria 2 In un ritorno mi avete chiesto di rifare la mappa Avendo adesso delle conoscenze un po' sulla creazione della mappa E quindi lo rifaremo, vedremo se più o meno lo siamo messi bene Questo non mi interessa sinceramente Andiamo qui, bottone, vai, attend button Ok, eccoci qua Premiamo i bottoni qui fuori, nessun problema Ok, text everything, read everything on top of bottom Benvenuto a Simboria, beh si questa non c'è, non ce ne frega ragazzi, abbiamo già visto, perfetto Andiamo a creare qui i primi cosetti, ricordiamocelo, ricordate? Dovrei un attimo, first get, eh, bulldozer Ah ok, devo andare al main menu prima Eh, si si ho capito, ho capito, non mi interessano queste cose Allora, devo andare al main menu, perfetto, main menu Andiamo a prenderci un bulldozer, ottimo E, eh, ok Beh, perfetto, fin qui si siamo Andiamo a distruggere quel plot che non ci serve Perché, perché è stupido quel plot E andiamo a piazzare i primi blocchi OP Allora, eh, l'idea principale è di fare un paio di cosette molto belle Quindi per esempio, facciamo bulldozer plot Ok Oh, nice Perfetto Questo è, eh, c'è il power Perfetto, eh, l'ho fatto Then come back to main menu Ok, andiamo al main menu Attimo, recuperiamo un po' di queste cose che potrebbero servire in futuro E questa volta sono propenso a fare una mappa fatta bene Quindi, voglio fare una costruzione carinissima, molto bella Che, eh, abbia comunque un ottimo, davvero un ottimo, eh, rendimento Eh, rendimento Spero che comunque vada bene, vi piazza Che abbiamo ripreso, mi sembra l'avete chiesto in molti E, visto che vi è piaciuta davvero un sacco questa mappa Quindi per adesso, adesso costruiamo la nostra bellissima power plant Che serve un po' dare energia a tutto quanto Power plant è abbastanza bruttissima Eh, strana davvero Ok, e adesso Eh, ok, devo tornare a capo al main menu Eh, ho tirato adesso giusto la parte iniziale Quindi non ci interessa tanto, però Ci accontentiamo per il momento Perfetto, fatto Cosa facciamo adesso al main menu? Eh, ci sono al main menu Oi, bello, ci sono al main menu Dove prendo il residential Ok, l'ho preso Eh, vabbè, questo lo sapevamo Poi, diamo il nostro commercial Vabbè, questo lo sappiamo anche cosa fa Dobbiamo prendere l'industria E il parco, mi sembra È quello che ricordo Ok, parco Cioè, industria, scusate E prendiamo questo bellissimo Parchetto molto OP Che è il parco iniziale Che è giusto prendere Eh, ok, sì, vabbè, così dice Vabbè, diciamo Tieni lontano Vabbè, piazzare nuovi blocchi Cambia, vabbè, insomma Queste cose Perfetto, sembra che Per ora sia finito Ok, devo piazzare un paio di blocchi Allora, vediamo un po', vediamo un po' Mi serve un attimo la map Visto che ci siamo Che è town map Perfetto E control non posso prenderlo al momento Allora, town map Perfetto Allora, iniziamo a vedere Vediamo di tutto Ehm, qui Cosa c'è? Visto che qua c'è il power plant Io voglio fare una cosa abbastanza carina Ovvero Iniziamo a piazzare un paio di Ehm Industria qua vicino Solo che Anzi, no, facciamo lì più lontano Tipo di lì, lì dietro Presto iniziamo a piazzare di qua Ehm, un bellissimo Ehm Residential Perfetto E di qua invece Più avanti Più accanto a questo Facciamo un commercial Così Che questo Vada vicino a questo E quindi Entrambi diventano livello 2 in teoria Vediamo un po' Perfetto Dovrebbero essere entrambi livello 2 No Per ora mi sa che sono livello 1 Ok Tutto era il complitto Ora Visto che sono stati piazzati Posso andare Indietro A recuperare il tempo Potenziato Insomma Andiamo in cita a modo Perfetto Ehm Nel frattempo Io prenderei un altro Un po' di residenzial Tipo altri due Un altro Ce la faccio a prenderlo anche Perfetto E andiamo a piazzare un paio di cosette Allora, per di tutto Questo è questo Industrial Zoning Allora, questo lo faccio dopo Devo piazzare un paio di Queste Ehm Non qua ma qui dietro Io proverei tipo A mettere Vabbè, sì Facciamo così Facciamo Mettiamo questo qua Facciamo un residenzial Qui accanto un altro residenzial E poi di davanti ci mettiamo Ah no, vabbè Ok In teoria qua ci va il parco Così non abbiamo problemi Lì vicino Ehm Anche se No, qua dovrebbe andare il parco Qua e qua Allora, ora vediamo Non è un problema Però adesso comunque sta crescendo La nostra bella città Qua ci metterei Ah, vedete, ok Nuo giorno Bam Da 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 Cash Abbiamo un sacco di soldini Ho limited In gadget In questo caso Sono stronzate che vi ho preso già Newsletter Oh The hand of you B-maps Capture the flag map The open forum Ora nessuno è felice Quindi Insomma, ci sono cose brutte Nel mondo di minecraft Non ditelo in giro Ok Allora, andiamo in turtle mod Andiamo a prendere un paio di commercial Ma come non ho abbastanza soldi Porca vacca Non ho abbastanza soldi ragazzi Per poter fare questa cosa Quindi sono costretto a rimettere capo il città mod E Ehm Dobbiamo un attimo sistemare un paio di cose La città Squish 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 Dov'è il trapolino? Ah, qua è il trapolino Guardate che figata Bim, bim, bim Ok Bello, bello Proprio divertimento Allo stato puro Ah, qua abbiamo un paio di cosette Qua ci dice Si, butta qualcosa Tipo questo Oh Picampio Cdap Eh, non so dove si prende però Drop off one side Ehm Ah, ok, ok Altri soldini Perfetto Abbiamo questa nuova mappa Ce l'abbiamo già La mappa della città Perfetto Che poi, vabbè Essenzialmente non sta modificando nulla Ah, streaming center Se lo ricordiamo Current viewers Allora Qui accanto Non dovrebbe esserci problemi Se lo metto qua vicino Il nostro residential zoning In teoria Andiamo un po' Da posto Infatti non dovrebbe esserci problemi Anche Anzi È solo aumentato Vedete che era a livello 2 Questo qua Perfetto È giusto È giusto Allora, spievo un nuovo mese Perché mi sembra un paio di cosette E Oh, qui è aumentato anche Perfetto Bene Sta crescendo molto bene Allora, questo è il griefing center Qua mi dà il pot Che sono inutili E Allora, qui c'è Gli steroidi Questa cosa è abbastanza carina In effetti L'enchantment Gli steroidi Voglio prendere Sembrano carini Ok Perfetto Abbiamo un paio di soldini Quindi adesso ci fermiamo un attimo Andiamo qua Meme new Andiamo in turtle Mod Vedete che adesso lo lagga più Quindi Boh La 1.8 si è ripigliata Ma lo so Ok E lo facciamo qui dietro Visto che abbiamo messo un paio di cosette Di questo punto E adesso abbiamo bisogno di un paio di RC Ancora Dovrò mettere ancora la zona Ehm Lì Quella potenziata Quella potenziata Ok Qui c'è andrà un parco Così E li vedremo da qui Dove ci sarà invece La nostra bellissima Prima industria Ottimo Di qui c'erano soltanto industria Ci saranno Perfetto Mettiamo le industrie Le industrie vanno attaccate vicino Senza Senza che creano tanti problemi Perfetto Ok Nice Mi piace come cosa Oh lì sopra voglio andare Oh ragazzi Quel bottone mi da Un paio di problemi Bello Bello Steroidi Troppo potenti gli steroidi Ragazzi Lasciamo stare Vediamo un po' cosa c'è City of Laker Bakery Cosa mi ha dato Oh grazie Oh smith Ah si Questo c'è Me lo ricordo Questo fatto Che tipo Era metà Metà schifezza Metà altre schifezze In teoria Ehm Guarda che c'è Funtime Poison Allora Funtime Poison Mi serviva sinceramente E dovrebbe essere C'erano queste parti Anche Ehm Un Ah Cigar shop Grazie per prendere cigarette Molto bravo Illuminati Wow Illuminati anche qui sono Oh questo mi dava di torto Mi sembra Ehi dammi un po' di candy Ehm No Da questa parte c'erano Ragazzi dove è che mi davano una spada Me la regalavano Lo ricordo Era un punto qua vicino Boh non lo so Comunque Abbiamo un po' di soldini Ehm Non è un gran problema In effetti Mi serve più o meno Lasciare un po' di queste cose La Funtime Poison è invece interessante Servirà Servirà in futuro Anzi Vediamo un po' se riusciamo a beccarla E andare lì sopra Devo semplicemente Far piano Eh che cavolo Non è una Funtime Poison bella Dovrei un attimo Aterrare in qualche modo Solo che Minecraft è stronzo Quindi Aterrerò male Infatti Sono morto Perfetto Grazie amico Allora Vediamo un po' la mappa Vediamo un po' la mappa Sembra che In teoria Di qui non posso piazzare nulla Vero? Eh infatti è chiuso Quindi sono costretto O metterlo qui dietro Cosa che probabilmente farò Oppure Non lo so In teoria dovrebbe andare bene E metterla qui Perché qui c'è Il nostro shop Quindi dovrebbe comunque Migliorare Entrami Quindi residential zoning In residential zoning Abbiamo bisogno di ancora poche Quindi Dopo questa qui basta Non prendiamo Ne prendiamo più Perfetto È migliorata anche Un po' tutto Opla Vediamo un po' Eh Vediamo 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 di qua Oh qui c'era Il Good farming Oh gold A chilled Spent a week farming For this Lol Eh Dovrebbe esserci Se non sbaglio Quella cosa Vediamo un'altra volta Eh Le tasse Perfetto Questa non mi interessa Qui c'è Gli slime Che sponeranno Adesso Eccolo qua lo slime Tronzo Se avevo una spalla in diamante Mi servirebbe Te no muori Vabbè muori Vai via Non ti voglio Oh La fine time potion Mi sarebbe stato utile Però non in questo momento Eh Non so adesso Cosa posso fare qui Nient'altro Dove forza aspettare Che arrivi il giorno Qui abbiamo la nostra prima industria Che funziona abbastanza carino Danger Bello Pericoloso Mi dicono eh Di qua che c'è Oh Founded by Kevin Bacon In the Minutes 80 Nelle 80 Questo Free company Shire Ok Una stranzata Andiamo Ah ok Non potevo salire Quindi per quello Command block È strano Semplicemente Se vado qui dietro Che fa Six degrees Spotlight Sei gradi Dovevo riuscire a salire Qui sopra ragazzi In qualche modo Solo che Non sono sicuro Di come si fa Quei bottoni Ah no Ok Sono una faccia Ecco perché Dicevo io Che cavolo Mi ricorda Sai chi ragazzi Asop Quello di One Piece Non so se si è fatta a posta Però Oh guarda Pesate Qui c'è una fornace Poi c'è qualcosa qui dentro Invece no Non c'è nulla Ok Andiamo un po' Velocità aumentata Così almeno possiamo vedere Di coprire qualcosa Di molto buono Quindi andiamo in Città mod Abbiamo Incomic.com 20 Più o meno Che comunque È una buona cosa Prenderei Un'altra commercial Che probabilmente Non ce la farò a prendere Quindi dovrò un attimo Aspettare E magari prendere un parco Per dividere un po' tutto Sì Qua lo ce la farò a prendere In effetti 65 Abbiamo recuperato un po' di soldi Adesso Ah Incomic.com 63 Congratulazioni Finalmente è stato Ah il città è stato scoperto Quindi andiamo a prendere un parco E basta Per ora Quindi torniamo alla town hall Facciamo attenzione A tante cose che creiamo Perché potrebbe essere Molto pericolose Come abbiamo già visto E in Italia qui Mi da un po' di soldini gratis Quindi mettiamo qui sopra Aspetto Torniamo indietro Che sennò fa casino Ah 50 costo Ok vabbè Lo prendiamo al prossimo mese Vediamo che finisce il mese Ok Deve andare più avanti Deve fare il giro Ok Guarda che bello ragazzi Fa il giro così a caso Belle stelle Che vanno in un modo stranissimo E Si so che questa parte Potrebbe essere noiosa Però ragazzi Inizia Inizialmente Si inizia così Quindi tranquilli Ehm Vabbè si no Non abbiamo posti abbandonati Per il momento Non dobbiamo farli abbandonare Perché potrebbe essere pericoloso In questo caso Allora via un po' Oh oh no 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 Solent by Hellman Ah merda Me l'hanno abbandonato Stronzi Ah stronzi Ah bene Comunque l'industria è questa Io dovrei metterlo qua Giusto qua accanto Ehm Quindi qua ci va Il nostro bellissimo Park zoning Prendere un attimo Questo Current No Current universe Mi serve Dove Ah non l'ho preso il book Non ce l'ho ancora Fa tempo il parco Vabbè ci sta Qui vabbè si Il parco inutile Che non ha una fine Non all'inizio E c'è soltanto Un chatting table Che potrebbe essere utile Se lo vediamo Da un certo punto di vista Quello Delle inutilità Quindi si È inutile Perché è utile Cioè è utile perché è inutile E' una strana ragazza A dire Qui c'è un altro parco In teoria per dividere un po' tutto Così non avremo problemi Di nessun sort Di nessuna sorta Per varie cose Che vuole costruire Allora abbiamo bisogno Un attimo di demolire Questa parte che Porca vacca È stata distrutta Quindi un altro residential E un bulldoze Andiamo a un altro Il 78 E prenderei un'altra industria Se la facevo Dovrei riuscircela a fare Un'altra industria Magari facciamo un parco Così siamo a posto Un po' ovunque E dono abbastanza soldi Per fare altro Quindi per adesso Bulldozziamo questa parte Bulldozziamo Non è una parola italiana Quindi non preoccupatevi È giusto per usare Su un termine bello E andiamo a sto posto Che è stato ormai Distrutto Dalli enderman Quindi enderman vi odio Ok Perfetto E costruiamo Queste residential zoning Ottimo Doveva ripigliarsi qua Aia Aia Merda Ho fatto un po' male Perfetto Andiamo a farci un altro parco Qua vicino Così siamo sicuri Che non ci dia problemi Di nessun tipo L'industria Perché l'industria Qua vicino adesso È vicino a questo coso Ok Guardate come si allinea La mia città bellissima Bah Un parco È aumentato anche l'industria In teoria vero? Girabo Redstone mine Bella mia Oh Che fa questo coso? Ci metto un kart? Che fa? Entra? Ragazzi mi serve un kart Mi serve Dove posso recuperare un kart? Voglio il kart ragazzi Voglio un kart Entra da una parte E esce dall'altra Probabilmente Di qua No Ma dove esce? No Non posso salire Nessun modo Che brutta cosa Blocchi di ferro Non mi sa Ma non mi dava Blocchi di diamante Sì Cioè blocchi di diamante Si avevo posto Ma Altri blocchi Di qualche altro tipo Allora Andrei a fare un'ultima nottata Così abbiamo un altro Un'altra cosa Spero che non ci sia Un abbandonamento Cioè Ah giusto qui Ci sono niente E Non ho abbastanza Di soldi Per fare tante cose Questi fan time Poi non mi servono Più di tanto Però ok Abbiamo anche la nostra Bellissima Summary hats Che potremmo Piazzare qualche parte Invece no Ok Allora andiamo al menu Andiamo a fare Cita mod Perfetto Qui dovrei poter fare Questa cosa Toggle Ok Possiamo Abbiamo un paio di cose Che possiamo vedere Per esempio Tipo Sulla mappa Posso vedere quanto è grande Che livello è E si da problemi Oppure no Vedete lì queste parti Ragazzi Tutto sulla destra Lì ci saranno Tutte industrie Ci saranno Quindi non dovremo avere Problemi di nessun tipo Ok Mi serve Magari un altro In mezzo qua Lì nel mezzo Ragazzi Per fare l'angolo Ci mettevo Ci metto Un altro Di questo commercial E poi non dovrei avere E poi non dovrei avere Altri problemi In effetti Do you know Ah beh si Orly system Già l'ho fatto Non è un problema Ok Andiamo in turtle Abbiamo 97 Abbiamo Industria costa un bel po' Eeeh Proverei a fare In questo modo 97 Dovrei farci A far questo Perfetto Abbiamo tutto ciò Che ci serve Ok Allora Andiamo a costruire Di qua Mi sembra Eh no Da questa parte Ah si si Di qui Di qui Ok Qui dietro Ci facciamo L'ultimo commercial Che è quello che mi serve E poi l'ultimo posto Che posso costruire Sinceramente Quindi ok Giusto Eeeh Qui dietro si Metterò il power plant Così potrò andare più dietro Da questo punto di vista Ok Ottimo Eeeh Oltre questo Nel frattempo che poi Costruisce Migliora tutto Vedete Adesso migliorerà un po' tutto Ok Lì migliorato Qui migliorato Insomma Un paio di cose migliorate Andiamo a fare C'è la nostra bellissima Damp La nostra Eeeh Cavolo Perché non mi ricordo mai come si chiama La dump La dump La dump Eeeh La nostra Cavolo Non mi ricordo mai come si chiama Ragazzi Giuro Vi giuro Non ho idea Ho una memoria di merda ragazzi Ho una memoria di merda Posso metterci una roba qui dentro? A recupero poi Ah buono E' il diete di Ted Cold Quanto vale quello? Uno solamente No Non possiamo farci nulla con quello Wow Questo panino Questa roba Poi i soldini ce li facciamo Magari Eh si Ma voglio darmi i soldi Vi dare Ant Mmm Niente Ok Non mi da più soldi Perfetto Che merda Allora ragazzi Per questo primo episodio E' la seconda stagione E' tutto La società sta crescendo In un modo giusto Benevolo Senza problemi In questa puntata Penso ci impegneremo più su Eeeh Migliorare un po' l'industria Perché mi servono Quindi In questa puntata Industria go go Eeeh E' un paio di commerci Che dovrebbero essere utili Per adesso Vi saluto Vi ringrazio per stare con me Un'altra volta Su questa custom map Che mi piaceva un sacco Ed è fatta molto molto bene A mio parere Eeeh Nient'altro ragazzi Vi saluto Eeeh Ah beh qui ci sono un paio Di cosette strane Ma quello lo vedremo In prossimi episodi Ciao Ciao ragazzi Ehi tu Si dico proprio te Sei nuovo da queste parti Si Allora mi presento Io sono Lisse E questo è il mio canale Qui potete trovare video di Minecraft Ma non solo Il canale è anche pieno di video di gameplay Quindi Che aspetti Io non so verlo più da vicino Persone o animali o bambini Non sono stati sfruttati per la realizzazione di questo video